Domani sulle Champs-Élysées l'arrivo del Tour de France, ma i campioni del domani crescono nelle gare regionali. La Federciclismo Molise dà sempre spazio al ciclismo giovanile. Mentre i big affronteranno l'ultima tappa del Tour de France in Molise, in particolare a San Martino-en-Pensilis, gli esordienti e le donne allieve prenderanno parte alla terza Coppa Città di San Martino-en-Pensilis, prova unica del campionato regionale. La ciclistica Santimoteo, organizzatrice della manifestazione dal 2013, anno della prima edizione, riunirà in Molise sia atleti regionali che extra-regionali, vista la validità come prova del Trofeo dei Tre Mari. La corsa nasce per evocare una tradizione centenaria della Corsa dei Carri, la carrese, che si svolge nel mese di aprile, ma le circostanze ed il periodo della festa di San Martino-en-Pensilis non hanno permesso l'organizzazione della Corsa giovanile in concomitanza con i festeggiamenti ufficiali nel mese di aprile. Saranno due i percorsi per la terza Coppa Città di San Martino-en-Pensilis, quello misto con un piccolo strappo all'arrivo per la distanza totale di 23,7 chilometri, partenza alle 15.30 per gli esordienti di primo anno. Di 27,7 chilometri partenza alle 16.45 per quelli di secondo anno. C'è grande entusiasmo quindi a San Martino-en-Pensilis. L'appuntamento è per domani con ritrovo alle 14 e partenza alle 14.30.